Dopo un'estate trascorsa tra mete fantastiche come la Grecia e località italiane come Capri e la Sicilia, Elisabetta è tornata in Calabria, la sua terra d'origine. Questo ritorno ha un significato ancora più speciale in occasione dell'anniversario della sua nonna omonima. Nonna Elisabetta, madre di Mario, il padre della Gregoraci, ha festeggiato ben 102 anni, e per celebrare questo straordinario traguardo, è stata organizzata una grande festa. È un ritorno alle origini carico di emozioni per Elisabetta Gregoraci, la celebre showgirl che spesso fa parlare di sé per la sua vita tra i riflettori. Questa volta, però, è un evento speciale a rubare la scena, il compleanno della sua adorata nonna Elisabetta, da cui ha ereditato il nome, che ha compiuto ben 102 anni. Un traguardo così straordinario merita di essere festeggiato in grande stile, e Elisabetta è tornata a casa nella sua amata Calabria per farlo. Il legame tra la showgirl e la sua nonna è profondo e speciale, una connessione che attraversa le generazioni e che ha influenzato la vita e i valori di entrambe. L'emozione di questo momento è stata condivisa anche sui social, dove Elisabetta ha pubblicato un dolce messaggio su Instagram, la nonna con che 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo nonna Elisabetta. Un messaggio che riflette l'amore e la gratitudine che prova nei confronti di questa figura così importante nella sua vita. L'amore, la gratitudine e la gioia di essere insieme a questa età avanzata traspaiono dalle parole e dai gesti di Elisabetta, dimostrando ancora una volta che, nonostante le luci della ribalta, i veri momenti preziosi sono quelli passati con la famiglia e le persone care. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.